Anzi, il suono dei dialetti, ah, è meraviglioso, ogni dialetto italiano è così ricco di sonorità che evocano, eh? E a questo proposito volevo ricordare un uomo, un poeta, che ha scritto un libro delizioso che si chiama L'Agnosi delle Fanfole. È Fosco Maraini, il padre di Dacia Maraini, che saluto con affetto. E in questo libro ci insegna come i suoni a volte emozionano più delle parole. Per il nostro momento cultura, leggerò Giorno ad Urlapicchio. Ci sono dei giorni smeggi e lombidiosi, col cielo d'agro e un fonzero congruto. Ci sono meriggi, gnalidi e budriosi che bloggidano sul mondo infargelluto. Ma oggi è un giorno a zimpani e a zirlecchi, è un giorno tutto gnacchi e zimparlini, le nuvole bozzigliano, i bernecchi luderchiano coi fernaci tra i pini. È un giorno per le vanvere, è un festicchio, un giorno carmidioso e prodigero. E un giorno a cantilegi, ad Urlapicchio, in cui mi hai detto D'amo per davvero.